Il giorno e la storia. Oggi è il 4 dicembre. 1969. Fred Hampton, leader delle Pantere Nere, ucciso dalla polizia di Chicago. 1991. Gli Hezbollah libanesi liberano l'americano Terry Henderson. 1991. Terminano i voli della Panam. Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia. Vent'anni fa morì Alberto Manzi, un maestro nel vero senso della parola che ancora oggi ci insegna che non è mai troppo tardi. Grazie.